Buongiorno Davido, benvenuti a quella che è senza timore di smentire l'ultima puntata della settimana puntata che oggi dedichiamo interamente all'open source, in realtà a un progetto open source e quindi per parlare di open source naturalmente mi sono appuntato al petto lo stemma di Schrodingerat che è questa community open source che vi invito a seguire naturalmente se non lo fate già hanno un bellissimo canale discord dove si parla di open source poi tutti i progetti e gli eventi che fanno insomma sono dei bravi ragazzi e vi consiglio di seguirli ma a parte questo inciso così per affetto e amicizia andiamo all'argomento di oggi perché oggi c'è da celebrare una release, l'uscita di una versione stable di un progetto open source che seguiamo da un po' anche perché è fatto da qualcuno che conosco con cui ho dei rapporti tra l'altro era stato anche ospite d'onore di una puntata di continuo scrivere di qualche tempo fa sto parlando di Michele Riva e sto parlando del suo progetto open source che è Orama, Orama Search, eccolo qua, questo è il blog post di quando? Di May 24 quindi oggi è il 26, due giorni fa vabbè ieri non c'è stata la puntata quindi per me è freschissima ed è appunto il blog post con cui viene annunciata la versione 1.0.0 quindi super stable di Orama e Orama che cos'è? È un motore di ricerca full text quindi un'alternativa a Elasticsearch, a Solar o che ne so, al Golia e quindi se avete bisogno di un motore di ricerca full text molto veloce e peraltro in javascript quindi praticamente da mettere dovunque dove vi pare questo è secondo me un progetto che va sicuramente indagato e tenuto d'occhio Orama è la nuova versione, il nuovo nome che Michele ha dato a un progetto che in realtà aveva lanciato qualche tempo fa e che si chiamava Lira quindi Orama è la nuova Lira quando è passato dalla Lira a Orama perché ha creato anche nel frattempo un'azienda una compagnia che si chiama Orama Search e che appunto è dedicata allo sviluppo, alla creazione di questo motore di ricerca e di tutti i servizi correlati ma Orama resta al suo cuore appunto motore di ricerca javascript open source interamente open source quindi lo potete andare a cercare su github e trovate tutto sul sito naturalmente trovate la documentazione e tutto quello che vi serve per integrarlo con anche se cercate in giro integrazioni per vari framework, vari static side generator eccetera e questo è l'annuncio di appunto Orama 1.0 ma facciamo un passo indietro per spiegare un po' che cos'è Orama Search, che cos'è un motore di ricerca full text potete andare a vedere la pagina github di Orama che tra l'altro serve anche per capire come integrare Orama in un progetto vedete che basta semplicemente installare il pacchetto da npm, orama, orama, et, orama, orama e quindi importare le API che sono le basi sono create, insert, remove, search quindi con create si va a creare lo schema del vostro database la ricerca quindi nell'esempio su github c'è uno schema composto da name, description, price e meta con un rating quindi una specie di e-commerce ecco, in una volta creato questo schema si vanno a inserire gli oggetti quindi con la API insert si inserisce per esempio una wireless headphones con una description, un prezzo poi smart led e un charger quindi si va a chiamare insert per tutti gli oggetti che vanno inseriti nel database alla fine per appunto cercare tra questi oggetti si chiama la API search con un property che è term e quindi si va a cercare per esempio headphones e a quel punto orama ritornerà un oggetto che è appunto wireless headphones che contiene questa stringa con anche un'informazione, un metadato su quanto ci ha messo a cercare in questo caso sono 99 microsecondi, sì, orama è piuttosto veloce, questa è già una caratteristica di Lira è una di quelle per cui veniva più spesso appunto celebrato e anche orama mantiene questa caratteristica quindi molto veloce e si può anche restringere la ricerca a proprietà specifiche degli oggetti quindi per esempio cercare solamente nella description, nella property description qui fanno esempio con una ricerca su un termo sulla property description che ritorna sempre la stessa struttura dati con i risultati in questo caso il tempo di ricerca è estremamente inferiore perché naturalmente andiamo a restringere le property su cui si fa la ricerca quindi un po' di esempi e questo è alla base come funziona orama search quindi torniamo al blog post cosa c'è di nuovo nella versione 1.0 naturalmente è una release che punta a rendere stable le API quindi è più che altro una release che serve a questo, serve a dichiarare che le API sono stable ma nonostante questo ci sono delle piccole novità per esempio c'è una nuova sorting API quindi è possibile quando si va a cercare nei risultati della ricerca dichiarare anche un sort quindi qua si fa l'esempio con search, con la property sort by e in questo caso per esempio sort by property year e con un order desk quindi quello che vi potete aspettare da un database è stato quindi aggiunto all'API search di orama si può anche, questo è carino, passare a sort by una callback con una propria funzione di sorting quindi naturalmente essendo javascript alla base questo vi consente anche una alta personalizzazione passando appunto callback javascript che effettuano queste ricerche lo stesso potere dato dall'essere javascript consente anche di creare degli schema con delle property che sono degli array in questo caso array di string o array di numeri e questo consente proprio di fare degli index su property che sono array quindi cercare su multiveg poi naturalmente ci sono dei fix e questo chiude diciamo l'elenco di novità della versione 1.0.0 e in chiusura viene citato un blog post un article di BrainRepo eccolo qua che è molto interessante consiglio di leggerlo BrainRepo naturalmente è il nostro caro amico Mauro Mauro Murru creatore di Gitbar il podcast Gitbar o Gitbar uno dei due tanto anche lui ha problemi con gli accenti quindi e in questo blog post lui va a raccontare come ha indicizzato quasi tutte le puntate adesso è un processo naturalmente in divenire le puntate del podcast appunto usando Orama e Astro quindi ha creato questo sito dove trascrivendo i testi delle puntate del podcast e poi indicizzandole e ricercandole con Orama ha creato un motore di ricerca full text del puntate del podcast che è molto interessante mi permetto di citare anche il progetto del mio caro amico nonché sito Paolo Mainardi che ha creato un plugin per Hugo Hugo è un generatore di siti statici no? e quindi ha creato questo plugin Hugo Lira che potete trovare quindi su npm come Paolo Mainardi Hugo Lira quindi se avete un sito Hugo potete aggiungere il plugin Lira per fare ricerche naturalmente è stato creato qualche mese fa quando ancora c'era Lira questa battuta non vedevo l'ora di poterla fare comunque deve essere aggiornato quindi a Orama nuovi nomi nuove API però sostanzialmente il funzionamento alla base è lo stesso quindi se avete un blog o un sito con Hugo potete aggiungere questo plugin per effettuare le ricerche con Orama e questo era Orama Orama 1.0 quindi complimenti a Michele e a tutto il team di Orama Search per questa release che comunque va assolutamente celebrata un progetto che è sempre più vivo attira sempre più attenzione e sono molto felice di questo non solo per le sue caratteristiche la velocità ma proprio anche per le innovazioni che porta e poi se vi interessano gli internals di JavaScript se vi interessa capire come si realizzano queste cose questi progetti i motori di ricerca come funziona l'indicizzazione ecco seguite Michele e il blog di Orama Search perché appunto vanno anche spesso a spiegare come funzionano questi concetti ed è molto molto interessante quindi questa era la notizia su Orama 1.0 leggo nel blog post che Orama ha un progetto di Community Awards per regalare swag e magliette a chi parla di Orama quindi ora Michele te tocca e ti manderò i miei indirizzi e i miei contatti mi aspetto una bag in regalo per questo servizio che ho fatto a Orama parte di scherzi complimenti davvero sono molto contento ci vedremo spero presto così ti potrò fare i complimenti di persona in chiusura di questa puntatona del podcast vado soltanto a fare una operazione che non piacerà a chi segue il podcast soltanto in audio perché questa notizia la si può apprezzare soltanto in video perché sto parlando di un nuovo logo il nuovo logo di Thunderbird non c'è molto da dire è semplicemente appunto un nuovo logo non ci sono release o feature particolari associate a questa notizia però fa comunque piacere vedere che Thunderbird è un progetto vivo e attivo ed è ancora aggiornato oggetto di restyling qualche mese fa parlavamo appunto della nuova release di Thunderbird con le novità anche il revamp dell'interfaccia ci stava anche il revamp del logo logo che adesso naturalmente ricorda molto più da vicino Firefox a sottolineare appunto la vicinanza tra i due progetti che stanno entrambi sotto il cappello della Mozilla Foundation e questo per chi può vedere perché sta guardando è il nuovo logo di Thunderbird potete anche apprezzare il confronto con il vecchio che rimane ancora nel head del sito e basta quindi torniamo al mio faccione vi ringrazio per aver seguito anche questa puntatona del podcast dedicata all'open source quindi vi do appuntamento a una prossima puntata fate bravi passate un buon weekend e contribuite all'open source che fa sempre bene e vi ricordo anche gli ottimi ragazzi di Schrodinger Hat ciao